Divino e Vino mi ha portato a Porcia, siamo venuti a trovare l'azienda San Simone, abbiamo Anna che rappresenta naturalmente la famiglia, gli altri due fratelli Antonio e Chiara. Loro sono entrati nella top wine 50 del Friuli Venezia Giulia con il Pinot Grigio e naturalmente il Pinot Grigio nelle grave è il simbolo oramai, no Anna? Però devo dire che negli ultimi dieci anni la grave è aumentata di qualità, oggi abbiamo una qualità molto alta, rispettosa e questo vi ha portato a crescere man mano, in anno in anno fino a che adesso avete questi riconoscimenti. Come la pensi? Sì, devo ammettere sì che molti dei produttori della zona DOC Friuli Grave hanno fatto degli sforzi, hanno lavorato molto in vigna e vinificazione, i risultati adesso si vedono, c'è un miglioramento qualitativo notevole, possiamo davvero degustare vini eccellenti prodotti in questa zona. Vini secchi, vini spumanti, premiati, traminer, no? Certo, sì, sia le cosiddette varietà internazionali che oramai sono diventate tradizionali come il Pinot Grigio ma anche varietà autoctone, ci distinguiamo un po' per tutte le varietà che tradizionalmente vengono coltivate nella denominazione. Questo è un fatto davvero positivo e il nostro punto di forza è che sicuramente produciamo vini estremamente varietali, quindi riconducibili al vitigno di provenienza, con aromi decisi, riconoscibili. Vini che non sono dotati di un contenuto alcolico troppo elevato, quindi sicuramente adatti alle esigenze del consumatore di oggi e quindi questo ci rende ancora più forti, quindi non solo forti della qualità che abbiamo saputo raggiungere, ma anche forti per poter affrontare il mercato, sia interno che estero. Tu dici adesso che questo è un vino moderno, cioè che rispecchia un po' il territorio delle grave, che magari prima era penalizzato perché volevano magari vini molto strutturati, vini di un grado alcolico superiore al vostro, adesso è arrivato il momento di riscuotere, come si dice, no? Esatto, una sorta di rivincita, ma comunque è... Anche perché siete in tanti ad aver avuto riconoscimenti, c'era uno ogni tanto con l'alternino, lo beccavano, adesso invece avete una luce propria qua. Esattamente, non abbiamo cambiato il nostro stile e questo appunto ci ha reso forti e in questo momento sono proprio questi i vini che vengono richiesti di facile beva, ma in senso positivo del termine, quindi non perché semplici, ma estremamente raffinati e soprattutto bevibili, non estremamente muscolari, che si devono masticare, ma vini che vengono piacevolmente bevuti in modo tale che un bicchiere chiami anche l'altro. Quindi direi che questa zona è sicuramente tra le più vocate per produrre il pinot grigio e una dimostrazione anche del fatto che comunque è il vitigno più diffuso, ma non solo nella denominazione docfriuli grave, ma in regione è tra i più coltivati. Anche perché non sei solo tu, ma hanno premiato altri tuoi colleghi, col traminere anche aromatico, con il prosecco, con il pinot grigio. Ecco, questa è la zona, se uno viene nella zona portenonese, sono questi i vini, insomma, che a parte i vini bianchi, poi avete anche i vini rossi, il Merlot, Cabernet Franca, Cabernet Sauvignon, però nei vini bianchi è questa la distinzione, insomma, no? Cioè, secondo te? Sì, sì, no, sono pienamente d'accordo ed è vero, soprattutto in provincia di Pordenone abbiamo avuto grande soddisfazione perché sono stati veramente numerosi, se non sbaglio dieci, i produttori premiati e quindi... Una manna, guarda, dieci anni fa ce n'era uno. Esatto, è un segno molto positivo che ci riempie d'orgoglio, a prescindere dal produttore in sé che è stato premiato, ma è proprio una soddisfazione per tutta la provincia, per la denominazione, perché questo ci dà anche la forza di continuare in questa strada. Perché tu sei stato il presidente del Consorzio, ho sempre puntato sulla qualità, io mi ricordo le battaglie che tu hai fatto, voglio parlare di export e di mercato interno, cioè allora noi giriamo in tutti i territori e sentiamo che chi va all'estero oggi non basta più l'importatore, cioè che dall'altra parte ti cura i tuoi interessi, però bisogna invece presidiare il territorio. Dicono tutti insomma che l'operatore che vende all'estero deve essere più presente perché non può basarsi più sul solo importatore. Tu cosa dici? Sì, credo che oramai sia un... Vui come fate con l'estero? E' un po' che vuole capire? No, purtroppo... Capitate tutto di là o andate anche voi qualche volta di presenza? Entrare nei mercati esteri sicuramente significa investire, ma investire non solo in termini economici ma anche in termini di presenza. Quindi se si vuole davvero valorizzare il proprio prodotto e quindi parlare della propria azienda, dei propri vini, necessariamente bisogna essere presenti per poterli meglio rappresentare. E' chiaro che l'importatore è un collaboratore indispensabile perché conosce più di quanto non sia concesso a noi, conosce meglio il mercato ed è sempre presente nel territorio. Però ha la necessità di essere affiancato da chi produce il vino e da chi lo può raccontare con personalità. Perché oramai è vero, la nostra denominazione ha compiuto dei passi da gigante in termini di qualità, però poi alla fine tutto questo va comunicato e siamo noi i portavoce di questo messaggio. Anna, in modo chiaro e semplice, cioè all'estero, vogliono vedere le immagini del territorio, la cantina? Assolutamente, ma questa è sempre vincente perché poi alla fine i castelli di carta cadono, dobbiamo raccontare la verità di chi siamo e di che cosa facciamo. Anche perché poi è quella che viene realmente colta e può essere vincente, altrimenti non ha senso. E quindi noi dobbiamo andare all'estero e collaborare con il portatore. Cioè presidiare un po' la zona, insomma. È assolutamente necessario per dare un'immagine completa di quello che facciamo, da dove veniamo e soprattutto perché la presenza e la propria faccia è quella che racconta davvero. E come lo facciamo il vino? Invece per quanto c'è il mercato interno tutti parlano, tutti parlano, ma le soluzioni qui non si trovano. Cioè ci si lamenta sempre le leggi nazionali, cioè i test, l'alcol test. Noi sappiamo il pianto generale, no Anna? Però troviamo delle soluzioni, magari fare un'alleanza con i ristoratori, di tenere i vostri vini nella zona. Cioè cercare in tutti i modi quei punti vendita di vendervi i vostri prodotti, fare le degustazioni, spiegare tutta la vostra qualità. Perché se non la spieghi la qualità muore da sola, insomma, no? Cioè, ecco, tutto questo lo state facendo o state piangendo ancora su proteste? No, fortunatamente questa è una situazione di fatto e quindi appunto alla fine dobbiamo trovare le soluzioni. Abbiamo iniziato questo percorso che è di collaborazione con i ristoratori e sempre più i ristoratori... E' una manifestazione a Pordenone, insomma, funziona, insomma, cioè... Con Pordenone Wine & Food Love abbiamo cercato proprio di rafforzare questo rapporto con i ristoratori... L'alleanza, no? L'alleanza, proprio. Esatto, che hanno anche presentato i menu tipici nel corso di tutto il mese di novembre, quindi abbinando proprio i vini della denominazione della provincia. E' partita, insomma, dai. E' partita e quindi i risultati si vedono, perché oramai è sempre più frequente poter bere vini prodotti in provincia... Punti vendita, tu vendi direttamente anche, no? Ho visto che hai il punto vendita... Devo dire che come quasi tutte le aziende della provincia, che poi hanno anche aderito alla strada del vino, hanno, come noi, dei punti vendita dove il consumatore finale può venire ad acquistare direttamente i vini... Degustazioni le fate in continuazione, le fiere, le mostre, insomma, no? Cioè, quelle non sono mai mancate, no? Certo, quindi anche questo è un modo per essere forti nel territorio. Quindi da una parte ci sono le alleanze, appunto, con i ristoratori, i punti vendita, le associazioni, quindi dalla strada del vino, all'associazione Nono Pordenone, comunque anche il consorzio che ha creduto anche tantissimo in questa, insieme alla Camera di Commercio di Pordenone, nella manifestazione Pordenone Wine and Food Love. Quindi ci sono molte attività che ci rendono comunque sempre presenti nel territorio. Anche perché... Non piangete più, insomma, cioè, in poche parole avete trovato la scossa? No, siamo orgogliosi delle nostre origini, del nostro territorio e finalmente abbiamo iniziato a dirlo, che siamo orgogliosi e questo è il messaggio più forte che possiamo dare, quando noi stessi crediamo nel territorio in cui viviamo. Senti, allora, siccome noi siamo qui a cavallo tra la fine dell'anno, no? 2013, inizio 2014, vogliamo fare il brindisi con te con la DOC Prosecco, no? DOC Prosecco di OGC, c'è stata una rivalità iniziale, adesso mi pare che, insomma, un po' di pace è stata fatta, andate avanti uniti, anche perché una è complementare all'altra, insomma, no? Cioè, una fa la quantità, l'altra fa la qualità. Ed è chiaro che ognuno ha bisogno dell'altro, perché magari tu vai all'estero, vendi la DOC, poi magari dicono, aspetta che vado a vedere la zona storica, no? Dove lo fanno questo... eh? Magari vanno a Valdoviadere, insomma, uno tira l'altro, no? Ma in dubbio che la... Tu come la vedi questa... perché c'è stata un po' di rivalità, no? Ma la DOC... I prese di vendita... La DOCG rappresenta sicuramente la tradizione e la qualità, ma è in dubbio che anche nella zona più ampia della DOC Prosecco vi sia anche la qualità. Quindi, come sempre, poi è lasciato ciascun produttore... Però voi ne fate un po' di più, perché di là, con i 68 milioni di bottiglie, non è che possono dare da bere a tutti, visto che c'è la riserva del nome, no? Ci vogliono almeno 400 milioni di bottiglie. No, beh, chiaramente è una zona limitata rispetto... 400 e 40 li fate voi, insomma, no? Nella DOC. No, è chiaro. Però si è capito che... L'aspetto vincente è quello di aiutarsi e promuovere insieme. Ancora una volta, quindi, collaborare e stringere alleanze, e questo porta sempre un vantaggio a tutti. Poi ciascuno parlerà in modo specifico della propria zona di produzione, però alla fine stiamo parlando di Glera e di Prosecco. E quindi è questo che dobbiamo tutelare in tutto il mondo, ed è questo che dobbiamo valorizzare in tutto il mondo. Anche perché il Prosecco prima era il nome di un vino e non c'era ancora la Glera, no? Adesso il Prosecco è un territorio e la Glera è il vino. Esatto. È stata fatta proprio un'operazione che è ingegneristica, insomma, cioè perché dare il nome di un vino a un territorio e dare il vino di un territorio a un nome di un vino è stata un'impresa ardua. Però c'è anche la riserva mondiale, attenzione qui, perché già sono partite le carte per fare la riserva là dove non hanno accettato, tipo il Brasile e quant'altro. Perciò quantità la dovete fare, qui in poche parole, eh? Certamente. L'area storica rimarrà là, perché è là. Ma sì, ma è giusto che le specificità vengano tutte là. Però un grande compito l'avete voi, Anna, qua. Certamente, l'importante è appunto tenere la qualità e comunicare che nell'ambito della specificità esiste questa zona, questo vino che è unico al mondo, che viene prodotto solamente nel nord-est Italia e che è una zona ben delimitata e per questo abbiamo dovuto ricorrere al nome Prosecco per essere tutelati a livello comunitario, quindi cercare di proteggere una denominazione perché qualora Prosecco fosse rimasto il nome del vitigno non si sarebbe potuto avere la medesima tutela in ambito comunitario. Quindi siamo forti comunque del fatto che noi dobbiamo promuovere il Prosecco nell'ambito della particolarità che poi ha in ciascuna zona di provenienza. Anche perché l'idea era lì, no? C'era un paesino chiamato Prosecco ed era lì ormai da quasi 600-700 anni, no? La glera era lì, bastava andare, quelle due idee sono state captate con le antenne e è stata fatta la valorizzazione del Prosecco. Bene, senti, hai qualche proposito per il 2014? Incoraggiare i tuoi, visto che sei stato anche presidente di un consorzio, no? Cioè, davi sempre il coraggio a tutti, no? Certamente proseguire in questa strada che abbiamo intrapreso, che è appunto quella della qualità e della valorizzazione della nostra zona. E soprattutto essere fieri del nostro territorio che ha ancora molto da dire e da dare. Bene, allora con Anna Brisotto, ma è a nome di Antonio e di Chiara, che sono i fratelli di Anna e che portano avanti questa azienda, la San Simone, qua di Porcia. Noi chiudiamo il 2013 e vi diamo appuntamento il 2014 brindando con le bollicine della Prosecco Doc. C'in e viva! Noi chiudiamo il 2013 e vi diamo appuntamento il 2013 e vi diamo appuntamento il 2014